Una trentina di chilometri più a est di Cabo San Lucas c'era San José del Cabo che rappresentava anche la mia ultima tappa in Baja California prima di spostarmi sul Messico vero e proprio diciamo. Il centro è costituito da un sacco di edifici coloniali ma tutti colorati e da un sacco di botteghe di artigiani e di gallerie d'arte. In quei giorni non ho fatto altro che fare lunghissime passeggiate sulle spiagge deserte. L'oceano purtroppo era piattissimo e ricordo benissimo la ragazza che noleggiava le tavole da surf che mi fece la battuta su quale preferissi più corta più lunga e io le risposi molto semplicemente sorridendo che ne avrei preso una a caso se lei mi avesse fatto comparire le onde in quel momento. Si fece anche lei una risata e ci salutammo. Nel frattempo si stava anche avvicinando il periodo di dicembre e quindi sia del mio compleanno che di Natale e iniziavo un po' a ragionare su dove sarebbe stato bello passarlo ovviamente poi lasciai decidere tutto al caso. Ok le foto sono qui sotto così come il tastino iscriviti, ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao!